Ciao Daisies e bentornati in un nuovo video. Io pure voglio dare il mio saluto, cacchio, quindi perché non chiamarvi Daisies, che è come il mio gruppo di Facebook? Cioè Daisies, no? Ci sta? Allora, bando a queste ciance, finalmente, finalmente, finalmente sono qui per recensirvi questi occhiali. Rialmente tantissimo tempo che ce li ho, tantissimo tempo che devo recensirvi questi occhiali perché mi sono stati mandati dall'azienda, cioè firmo. Quindi prima che Susan, che è la ragazza con cui mi sento perché questa collaborazione, venga dentro casa mia e mi uccida, finalmente sono qui per fare questa recensione. Inizio a parlarvi dell'azienda. Firmo merita veramente tantissimo perché propone degli occhiali veramente di qualità, è facilissimo fare l'ordine sul sito, potete inserire tutte quante le caratteristiche che volete avere nei vostri occhiali da vista o anche da sole perché ci sono anche alcune montature con le lenti da sole. A me personalmente non è stato mai fermato questo pacco alla dogana, però una ragazza che recentemente ha fatto un ordine, che mi aveva chiesto appunto qualche consiglio, mi ha detto che l'è stato fermato il pacco alla dogana. A me è veramente molto dispiaciuto, a me non è mai capitato con nessun sito. Il consiglio che vi posso dare per non far bloccare i pacchi alla dogana è fare sempre degli ordini, in particolare da siti asiatici oppure dall'America, eccetera, degli ordini di piccolo valore, quindi che non superano per esempio i 50, massimo 100 dollari, 100 euro, perché se no è un pacco sospetto e viene tremato appunto alla dogana. A me personalmente non è mai capitato. Al di là di questo piccolo problema, che comunque è veramente molto molto raro che succeda, questi occhiali sono veramente fantastici. Io ne approfitto ovviamente facendo queste collaborazioni per prendere delle montature un pochino più particolari, ecco, quindi magari come questi che sono tartarugati, oppure di un colore diverso, di una forma diversa, perché cerco sempre di trovare degli occhiali che ovviamente mi stiano bene, visto che gli devo portare costantemente gli occhiali da vista ormai. Intanto so che moltissimi di voi mi chiederanno questo particolare modello perché veramente ha fatto il boom e sono d'accordo con voi, sono veramente molto molto belli. Questi occhiali in realtà adesso nell'info box trovate il link del modello, ragazzi, quindi potete andare a vedere il modello specifico e se volete potete acquistarli anche voi. Non ho idea se si possono mettere anche le lenti da sole, onestamente. Sono molto carini questi qua perché intanto hanno tutti quanti i dettagli in oro e non in argento o nere e quindi sono veramente molto belli perché impreziosiscono moltissimo il modello dell'occhiale in sé. E hanno le stanghette rosse, quindi sono veramente molto molto belli. Una cosa che adoro è che abbiano i naselli così che siano molto molto delicati, abbiano la stanghetta in mezzo che appunto è sempre dorata. Sono leggermente tartarugati ma non tanto, anche sopra sono tutti quanti definiti in oro, insomma sono fatti, c'è quello d'ororo ovviamente, non in oro zecchino. Sono veramente veramente bellissimi questi occhiali, ragazze. Io sono troppo contenta, moltissimi di voi mi fanno i complimenti per come mi stanno, quindi ormai mi sono anche convinta da sola che mi stiano veramente bene. Non soltanto voi ma anche i membri della mia famiglia, persone, amici eccetera mi hanno detto che sono veramente molto belli. E mi piacciono veramente veramente tantissimo. Nell'info box trovate intanto il link del sito dove vi consiglio di sbirciare perché ci sono veramente tantissimi tipi di montature diverse. Tra l'altro se volete potete caricare, visto che ovviamente la scommodità di comprare gli occhiali online è che non potete provarli. E la montatura degli occhiali è sempre molto soggettiva perché ovviamente ognuno ha il suo tipo di viso, ognuno ha le sue caratteristiche, la montatura che gli piace di più vedere su di sé. Io personalmente siccome sono una grandissima fan degli occhiali sia da vista che da sole, io non mi faccio problemi. Io prendo occhiali di tutti i tipi perché mi piace avere occhiali di tutti i tipi con diverse montature e diversi colori. Anche se mi stanno male, sono degli accessori che a me piacciono moltissimo e me ne frego e me li metto lo stesso. Una volta che scegliete una montatura di vostro gradimento, accanto alle foto della montatura in cui potete vedere, la montatura di fronte, di lato, eccetera, per vedere bene tutto quanto, ci sono intanto le dimensioni in millimetri, quindi potete vedere se per esempio questi occhiali sono troppo grandi per voi, sono troppo sottili, vi fanno vedere appunto la grandezza, insomma la lunghezza, la larghezza delle lenti, quindi potete vedere sia la misura della lunghezza che dell'altezza, diciamo, e quindi potete vedere se effettivamente vi piaceranno a seconda della grandezza. E poi, una cosa molto molto carina è che potete vedere appunto delle foto standard di modelli che sono messi lì, che vi fanno vedere il viso un pochino più magro, il viso più squadrato, più tondo come il mio, eccetera, e potete vedere appunto gli occhiali indossi a diverse persone, oppure potete caricare direttamente una vostra foto sul sito e potete vedere effettivamente come starebbero gli occhiali su di voi. Al momento dell'ordine, quindi potete scegliere non solo la montatura di vostro gradimento e i prezzi sono veramente molto 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 competitivi rispetto agli occhiali dell'ottico, perché considerate che gli occhiali da vista che io ho fatto dall'ottico, che sono questi qui, che sono, vabbè, sono di Chanel perché mi piaceva questa montatura, però io li ho avuti anche di altre, cioè li ho visti anche di altre marche, però più o meno il prezzo è quello, io questi qui li ho pagati veramente tantissimo, cioè tipo più di 200 euro, perché ovviamente è la montatura super figa e le lenti. Questa montatura ovviamente io non l'ho pagata perché era una collaborazione, però costa tipo 39 dollari mi sembra, che più o meno sono 35 euro e vogliamo mettere 35 euro versus 240 che sono degli occhiali dall'ottico e sono veramente di ottima fattura, ragazzi, perché sono veramente, la parte sono leggerissimi, sono comodissimi, sono perfetti perché io vedo perfettamente e li amo. Al momento dell'ordine, appunto, oltre alla montatura potete scegliere tutte le caratteristiche che volete che i vostri occhiali abbiano, nel senso, ovviamente ci sono dei piccoli prezzi da aggiungere se volete gli occhiali antiriflesso, con le lenti antigraffio, eccetera, eccetera, però potete scegliere comodamente la vostra gradazione a seconda del vostro problema, come se siete miopi, presbiti, astigmatici, potete scegliere ovviamente tutto quello che vi serve, occhiali da lontano, da vicino, buoni da lettura, potete prenderli se non avete nessun tipo di problema, insomma, potete prenderli anche normalissimi, coerenzi, trasparenti, tanto per accessorio, che è una cosa che ho visto fare molto e oggettivamente una cosa che probabilmente farei se non fossi miembro, perché mi piacciono moltissimo gli occhiali. E cosa molto molto importante, che forse è l'unico dato un po' più rognoso da inserire, però se ci pensate è veramente super super fantastico e ha un indice ancora maggiore dell'affidabilità del sito, dovete inserire la distanza tra le vostre pupille, quindi voi vi dovete mettere con un righello di fronte allo specchio, ancora meglio di fronte a un'altra persona che ha un righello in mano e che vi misura la distanza delle pupille nel momento in cui guardate di fronte a voi, perché così ci sono degli occhiali che a seconda della forma delle lenti, del problema particolare che potrete avere al momento della scelta appunto della montatura, ci sono degli occhiali che sono più adatti o meno adatti a seconda della distanza tra le vostre pupille, per esempio la mia è di 59 mm o 60 mm e questi occhiali erano perfetti, ne avevo scelto un altro modello che invece erano un pochino più allungati e che non andavano bene, quindi è l'unica cosa un po' rognosa appunto a mettersi lì con il righello e misurarsi la distanza tra le pupille, però è un indice di affidabilità perché appunto gli occhiali sono fatti veramente ad hoc per voi. Nell'info box vi lascerò anche un codice sconto che mi danno ogni volta che faccio questa collaborazione che vi permette di prendere un paio di occhiali completamente gratuito, l'unica cosa che voi dovete pagare sono le spese di spedizione che comunque non sono tanto alte per essere un sito che ovviamente è oltreoceano. Gli occhiali, ultima cosa, vi arrivano in questa confezione, nella confezione di firmo, prima era totalmente nera, adesso vi faccio vedere perché io ho un altro paio di occhiali che è stato il primo paio che mi hanno mandato, la confezione era tutta nera, vado a prenderla. Ecco, vedete, anche questo è firmo e questi sono i primi occhiali che mi hanno mandato, forse qualcuno di voi se li ricorderà se mi seguite da così tanto tempo, ed erano questi qui, erano degli occhiali un po' nerd style, con la montatura molto grossa, molto spessa. Eccoli qua, sono questi, e questi non mi stanno bene come quelli, però mi piacevano, però appunto questi per esempio non posso più permettermi di utilizzarli, perché li ho presi quando mi mancava 0,75, adesso mi manca un po' di più, quindi non posso più permettermi di utilizzarli. E gli altri che mi avevano mandato, che avevano la confezione nuova, come appunto questa, sono quelli che vi ho recensito sul blog, che sono questi qui, che sono effetto marmo, hanno le stanghette veramente molto particolari, sono veramente molto carine, appunto effetto marmo, bianco e nero, un po' melangiato, e sono questi qua. Anche questi sono veramente molto 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 belli, però anche questi come gradazione sono inferiori, nel senso che il grado, insomma, delle lenti è infettere rispetto a quello che ho adesso, quindi anche questi non posso indossarli per esempio per guidare, ma magari davanti al computer o comunque per stare abbastanza vicino, perché sennò non vedo niente, anche questi mi piacciono moltissimo, anche questi vorrei in realtà far sistemare le lenti e poterli indossare. All'interno della confezione, come sempre, trovate il pannetto, per pulire le lenti, e nei secondi che mi hanno mandato, hanno cambiato appunto il pannetto, che invece è arancione, ed è molto più resistente, molto più spugnoso, quindi veramente pulisce molto bene gli occhiali, che è una cosa importante, e la confezione è stata completamente rifatta, ricorda moltissimo la marca prima classe, se avete presente, e con tutta questa cartina geografica, e anche la texture è un po' diversa, sono veramente molto belli. Detto questo, fanciulline, io vi saluto, spero veramente tantissimo che questo video vi sia stato utile, spero tanto di avervi un pochino incuriosito, perché secondo me questi occhiali valgono veramente la spesa, sono veramente molto belli, ci sono tantissime montature diverse, tantissimi stili diversi, il sito è veramente molto affidabile, è un modo carino per avere più paia di occhiali diversi, senza spendere cifre esorbitanti, come dall'ottico, secondo me sono veramente carini, carini, carini. Spero di avervi detto tutto, di non essermi dimenticata niente, qualora mi fossi dimenticata qualcosa nell'info box, trovate sicuramente qualche informazione che potrei essermi persa, ma credo di avervi detto tutto, vi ripeto, trovate nell'info box il link del sito del modello di questi occhiali, perché so che molti di voi vogliono averli, e poi il codice sconto per prendervi appunto la vostra montatura, completamente gratis, a cui, ripeto, dovete aggiungere però il costo delle spese di spedizioni, perché non ricopre tutto quanto l'ordine. Io vi mando un bacio grandissimo, grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima, ciao!